e rientriamo a casa Grande Fornello come sera tutti i venerdì sera a partire dalle ore 18 abbiamo con noi collegamento dalla casa di Grande Fornello direttamente le due giocatrici la Sara Zannini di nuovo buonasera e la Giulia Gennari di nuovo buonasera anche a Giulia allora sapete siete entrate nello spazio intervista doppio vabbè l'intervista doppio lo sappiamo tutti come funziona quello che non sapete sono le domande che ovviamente vi faccio non dico tanto tradimento perché ormai forse tra di voi è serpeggiato qualcuno ha studiato però comunque ricordo le regole avete solo un passo potete solo una volta diciamo una domanda in cui vi imbarazzate un pochino dire ok questa passo una sola una sola questa è la regola per cui tenetelo bene diciamo così a parte proprio nel momento quello più giusto quello più più topico e poi niente quante domande sono così se sono l'ottava magari me lo gioco tante tante sono qui sono tante non preoccupate sono su vari argomenti non vi preoccupate allora partiamo chi fate bim bum bam chi delle due inizia Giulia Giulia ok Giulia ho vinto il premio hai vinto il premio cara Giulia le prime sono facilissime come ti chiami Giulia come ti chiami nome Giulia Sara cognome Gennari Zannini Nata Roma Ancona Altezza Un metro e 83 1,72 Eh beh lei fa sta in mezzo va di là va di qua seconda linea è normale Peso Passo No subito così No 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 scherzo 78 78 ok 60 60 Stato civile sposata fidanzata single Sposata Sposata Pseudo fidanzata Insomma Trovate voi lo stato che più vi piace ma tu single Io sì singolissima Singolissima Ok Io passo Subito così Annaggia i pesci gatti Sapessi quelle dopo Secondo me hai sbagliato Perché passare subito così ci vuoi ripensare? No no passo passo Se la passa Va bene se la passa Attenzione andiamo avanti e parliamo un po' della carriera Iniziamo con la prima domanda Che età hai iniziato ufficialmente a giogare a pallavolo? E' iniziato a giocare 12 anni credo Più o meno anch'io Più o meno anche tu Qual è stata la tua prima squadra dove hai giocato? Ostia Ancona Il nome del primo allenatore? Eh te lo devi ricordare Eh no 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 me lo ricordo attenzione Si chiamava Antonella Antonella Marco Marco secondo me l'hai inventato No 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 Io sono certa C'è certa perfetto Allora attenzione Andando avanti Domanda che arriva è Quando hai capito che Praticamente la pallavolo Poteva diventare anche il tuo mestiere Il tuo lavoro Un domani Sinceramente non ne sono ancora tanto sicura No scherzo Quando Quando sono stata chiamata per la prima volta con la nazionale credo Sì e lì hai detto oh forse 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 qualcosa ci può uscire da qui E quando secondo me ti accorgi sia che più passi tempo in palestra più ci vorresti stare E quando Cioè da piccolo che ti arrivano le prime chiamate che vai in prima squadra no quindi sacrifichi anche il tempo libero Sacrifichi tutto per stare sempre in palestra secondo me lì capisci Forse 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 può diventare Bene Attenzione andiamo più difficile Visto che voi siete sempre in giro Qual è stato Diciamo così Il nome Della prima compagna a distanza in cui avete fatto una trasferta O quando vi siete stati fuori Allora O la prima trasferta O la prima diciamo casa condivisa Con cui ho vissuto Con cui hai vissuto Magari Io ho la compagna a distanza che Attuale mia migliore amica è Michela 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 E io Valentina Valentina Perfetto Attenzione siete superstiziose? Io No Non sono superstiziosa Non ci credo A queste cose Però Mi piace che nel pre partita ognuno faccia Il solito Sì Ma non tanto per cacciare la sfiga Secondo me è più un fatto di Fare le stesse cose per Concentrarsi già prima della partita Cioè perché c'è chi comincia a lavarsi Il top fortunato Che ne so Tre giorni prima E quindi già prima della partita Tu comincia ad entrare nell'ottica Della concentrazione Più per quello che per la scaramanzia Certo Quindi questi riti che aiutano un po' A ritrovare la concentrazione Tu invece? Io il giusto dai Cioè qualche rituale che c'hai sì Però non Non più di tanto Esatto Diciamo quello che ci deve stare Allora Attenzione Andiamo avanti Facendo così Una breve Ricognizione Di quelle che sono Le giocatrici in campo Attualmente A livello se vogliamo Mondiale Nazionale Qual è la Giocatrice migliore Più forte O quella che più in qualche modo Vi piace Ah cacchio Quella è forte Quella è tosta Allora A vostro giudizio Ah no Domandate Ce ne sono talmente tante Una Dai Una In particolare Allora Nel nostro girone Forse Ma non dico il girone Non dico anche A livello A livello proprio Nazionale A livello anche mondiale La giocatrice più forte Mi piace Che ne so La Lloyd La Lloyd Larry Lloyd Larry Lloyd Tu? Io sono da sempre Una fan della Cardullo Quindi Quindi ok Per te è facile Questa domanda è proprio Facile 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 Andiamo sullo stile di vita Lussuoso o modesto? No Modestissimo Dai Neanche modesto Modestissimo Modesto Modesto Sei da SUV O da utilitaria? Potendo avercela la macchina Beh È una domanda Allora intanto Potendo avercela la macchina Vabbè Tu adesso cosa guidi? No Io adesso Ho una macchina Una Toyota Yaris Ok Quindi più utilitaria Però Sono da utilitaria Ma potendomi permettere un SUV Probabilmente Cioè Se mi potessi permettere una Ferrari Sarei da Ferrari Ok Nel senso Va bene Tu? Io diciamo che abbandonerei a manincuare la mia Y per un SUV Va bene Insomma il sacrificio grosso lo fai È Oro o argento? Argento 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 Discoteca Discoteca o serata tranquilla? Bah Eh Discoteca Serata tranquilla È vero Una cosa che ti soddisfa nella vita? Una Una cosa che mi soddisfa nella vita? Eh Occhio Qui iniziano le domande marzulliane Faccio Una cosa che mi soddisfa nella vita? Sì L'affetto delle persone Ok Sì Trascorrere del tempo con le persone a cui voglio bene Ah Vedi È una cosa invece che non ti soddisfa? Che non mi soddisfa? Cioè è una domanda difficile perché ci sarebbero talmente tante cose da dire che Una È una cosa che non mi soddisfa nella vita Prima che ti viene in testa dai Ma sai che non mi soddisfa? Ma dai ce ne saranno tante Dovete vedere la sua faccia Anzi poi la vedrete probabilmente Una cosa che non mi soddisfa nella vita Questa Essere insoddisfatta Oh vedi? No? Sì Come no? Ci mancherebbe Io dover fare delle cose per forza anche se non voglio farle Eh beh insomma Mica male è come cosa Una gran rottura di Di bip Come si dice in zergo E allora vediamo di continuare Attenzione adesso andiamo con una difficile L'amore è Sai quelle cose che scrivo nel diario L'amore è fantasia Fantasia Wow E condividere E condividere La vita invece per te è? Follia Follia Wow Ragazzi si vede tutti La ragazzina qua che Ma la vita è È quello che ti costruisci Che senti Cioè quello che crei per te Ah è giusto È quello è Per qualcuno è la follia Per qualcuno è quello che si costruisce piano piano Attenzione Qual è La tua qualità migliore La tua qualità migliore La mia qualità migliore E sono Sono democratica Sì Sì Essere democratica all'interno di uno spogliatoio Fosse una qualità Forse No in quel senso No 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 A livello Cioè nel senso In un gruppo sono Non sono una di quelle Che vuole imporsi Esatto Certo Dici ok Cioè riesco a Mediare Mediare la cosa Esatto E tu? Io Diciamo che sono affidabile Affidabile La cosa invece Diciamo così La tua qualità peggiore La mia Forse sono Per certe cose Sono un po' Menefreghista Menefreghista Ma diciamo che Gli viene da ridere Cioè che poi fondamentalmente Non è neanche Per alcune cose Non è un difetto Ma per altre Può esserlo Può esserlo Diciamo che delle volte Evito di esprimere Il mio punto di vista Quindi diciamo Ti mascheri un pochino Se vogliamo Altra domanda Sei generosa? Sì Molto Sì Sì Perfetto Bene Occhio che adesso Andiamo nelle domande Quelle che in assoluto Sono quelle più difficili Quelle che mettono più in imbarazzo Occhio Andiamo proprio nella sfera Diciamo così Quella più Da rivista di gossip Allora Dunque Innanzitutto Come deve essere il vostro luogo Un gentile Un gentile o un macio No Probabilmente un gentile 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 Occhio che andiamo sempre su difficile Biondo Moro Rosso Moro Allora Moro Perché mi piace di più No È figo perché C'ha sempre Da Eh vabbè Perché la domanda così secca Non ti permette Di capire bene Allora Moro Tutta la vita Però io sono rossa E quindi E Se vogliamo pensare al futuro A me il figlio rosso mi viene solo se sto con uno biondo O castano chiaro Pensate ragazzi Quindi Perché tu due figli ne vorresti uno rosso Eh sì che faccio Solo io Cioè poi finiamo Siamo pochi Ti dici devo mantenere la stilpe Eh certo Siamo pochi Siamo rimasti gli ultimi Facciamo un appello Cos'è che serve per fare un altro Castano chiaro sarebbe proprio Il top Il top Oppure Poi viene il biondo Sì E poi in una classifica Parta al primo posto Il moro Perché a me piacciono mori Però poi non mi viene il figlio biondo Cioè tu quando sarà il momento Di sposarti Tra virgolette Sacrificherai Il moro che ti piace Il mio Esatto Per avere il figlio Contorta la cosa Però insomma Ci può stare Vabbè bisogna fare delle scelte Nella vita Assolutamente bello Perché già belle definite Queste scelte E tu? Moro 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 tutta la vita Chi se ne frega Tutti sti ragionamenti Biondo Come viene Come via via Occhio ecco Adesso vi faccio la domanda Dove cadono un po' tutti Vai Attenzione Vabbè c'ho ancora il passo È vero Lei l'ho però Ora migliore per fare sesso Secondo voi Quale potrebbe essere? Doposcena Doposcena Eh un po' dopo mangiato Sai un po' Eh beh dipende cosa mangi È vero Sì concorda Concorda il dopo cena Bene Quindi queste sono ragazze Vedete proprio di spirito Attenzione Occhio Questo diceva Meglio un uomo O una donna Per amico Per amico 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 eh Amico 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 Tosta 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 Lo so Dai no 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 Da donna Donna Ok Io sinceramente Io sinceramente ho sia amici uomini Che amiche donne E con i uomini devi condividere delle cose Con le donne delle altre Però sono imprescindibili Perché non puoi fare amici Cioè io non farei mai a meno Dell'amicizia dei miei amici maschi Perché con loro vedi più la spensieratezza Sì c'è un aspetto E con altri invece riesci ad essere un po' più intimi Lati diversi Sì certo E quindi ce li mettiamo tutti e due Sì Ok va bene Attenzione Attenzione Occhio che adesso siamo quasi alla fine Ma poi arrivano le altre più semplici Musica leggera Diciamo così O Un po' pop Oppure rock Heavy metal Cosi un po' estremi Allora Se prendi la mia playlist Ci sarà di tutto Di più Esatto Però qual è la cosa Mi piace tutto Tutto Dipende dal mio stato d'animo Sai Cioè ci sono delle mattine Che mi sveglio E metto A martello Sì Heavy metal E delle mattine Che è proprio Pianoforte Ok Bling 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 Esatto Io più tranquilla Sia la musica italiana Che la musica pop Pop Però insomma Niente di heavy metal No Attenzione Davanti alla televisione Alla sera Scegliete Avete solo due canali Su uno trasmette un reality E sull'altro Una trasmissione televisiva Tipo l'anno zero Giornalistica Approfondimento Dove Dei due canali Reality Eh reality Sì Gusti Piatto preferito Questi vanno pam pam Piatto preferito Piatto preferito Dai Non c'è Eh uno dai Ti posso dire cosa non mi piace Perché No dimmi cosa ti piace Cosa mi piace Ah lo sai cosa mi piace molto La parmigiana Ok I tagliolini allo scoglio Tagliolini allo scoglio Colore che ami Colore che amo Bordeaux Azzurro Hobby Hobby Uno Hobby Hobby Compro 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 Quello più che nobbi Una mania Però ci sta Va bene D'accordo Tu Ma mi piace Fare sport In tutte le salse In tutte le salse Adesso arriva la seconda domanda Oltre al volley Quale altro sport Segui Allora Mi piace molto Perché lo praticavo Il karate Ui ragazzi Questo è pericoloso Attenzione C'è ancora il kimono Sì a casa Cintura Cintura blu Wow No davvero verde Blu ma mi ricordavo che c'era Mi ricordo il rosso marrone C'era anche blu Dopo la verde c'era blu Dopo la marrone E poi la nera Ero quasi arrivata poi Karate Kid Ha fatto lezione Io il calcio invece Calcio 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 Attenzione Dolce che preferisci Dolce tiramisù Tutta la vita Il tortino al cioccolato Il tortino al cioccolato Quello con l'anima fusa dentro Buono Brava Sono d'accordo con te In questo caso La bibita che preferisci Che non deve mai mancare Nel tuo frigo Eeeh La birra Birra Coca cola Coca cola Attenzione Che cosa non sopporti Di una persona Cosa non sopporto di una persona Yes Eeeh La cattiveria gratuita Cattiveria gratuita La falsità Falsità Eeeh Attenzione Vacanza Mare o montagna Mare Tutta la vita Mare tutta la vita Mare tutta la vita Figurati La seconda domanda era Perché Ma insomma avete già In qualche modo commentato Perché non c'è storia Guarda Non c'è storia Attenzione La capitale in cui vorresti vivere Vorrei vivere 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 non te lo so dire Ma che vorrei visitare tanto Che non ci sono mai stata Berlino Berlinen Haktung Io Londra Londra E' un Insomma Perché Berlino Non lo so Perché è una di quelle città Che vorrei visitare Perché A parte che Mi ispira Una di quelle che ti ispira a pelle Certo E poi perché comunque Ha una storia Cioè Certo E' inevitabile Poi vabbè vengo da Roma Quindi E' tutto relativo Sì Vuoi fare confronto con Roma E invece tu perché Londra? Boh non lo so Una città che mi ha sempre affascinato Cioè Prima vorrei andarti in vacanza Magari E poi vedere se trasferirti Va bene Poi magari chissà Senti Dovendo scegliere Vacanza tranquilla Quella nel resort Tutto il tempo Sotto l'ombrellone A fianco alla piscina O zainetto E via Ogni giorno una tappa diversa La due Tappa diversa Tappa diversa Zainetto Tutte due Ogni giorno una spiaggia diversa Dai Dipende anche il gruppo Quelle persone con cui vai Però Potenzialmente Quando c'è Sei più da zainetto Più da avventura Occhio ragazze Il più bel regalo Che hai ricevuto Nella tua vita Fino ad oggi E tu ti sei giocata Il tuo passo Perché lo vorrei ricordare Il più bel regalo Che ho ricevuto Nella mia vita Uno dai Perlomeno uno di quelli Che ricordi con più piacere Sto pensando Sto pensando Bisogna che queste domande Le passiamo prima Così arrivano preparate Almeno queste Più difficili Così hanno Possiamo andare avanti Ti rispondo fra poco No Lo devi dire adesso Allora dai Cellulare Cellulare Quello proprio bello Il più bello Che ha ricevuto Io forse la macchina La macchina Wow Proprio regalino Quello Grande Ci picchia Chi non vorrebbe una macchina Come regalo E invece il più brutto Uno dei più brutti L'anno scorso Allora perché Devi sapere che Nelle squadre Lo so Si fa gli scambi Di regali Uno fa Non l'avessero mai fatto Che t'hanno regalato Mi hanno regalato Una collana Grossa Dorata Scusa Eri questa squadra? No 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 Se no non avrei mai detto Assolutamente no Però ti vorrei ricordare Che poi dopo L'intervista Rimane anche sul podcast E su internet Sì vabbè Ma tanto non Provvederemo a mandarli a qualcuna A qualche giocatrice Della tua squadra precedente Beh insomma Mi hanno regalato Sta collana Dorata Con Tutta in Gro Guarda In gingherata Non hanno Non hanno Non ci sono parole Per descriverla Mai messa? No Ancora in pacchetta C'è il carteggio Una roba Beh io Sai cosa si fa Di solito Quei regali Si si ripassa La prossima Natale Facile Facile Troppo facile Tu? Io un reggiborsa Da tavolo Tremendo Questo è ancora peggio Però C'è un reggiborsa Da tavolo Mistica Questa è veramente Difficile da reggere Non l'ha regalato Neanche a mia nonna Perché poi Io alla mia borsa Ci tengo Infatti Per terra Cioè gli abbiamo fornito Una seggiola Per appoggiarle Boom Per terra Figurati Se usa Il poggaborse Da tavolo Attenzione Siamo quasi alla fine Rush finale Cioè quindi Mi posso giocare il passo In tre domande Quante domande ancora? Quattro? Sì tre Tre Perfetto Queste sono facili In tre giochi Stile Elegante o casual Il tuo preferito? Casual Casual Attenzione Facilissimo Ultimo libro letto Ah Bello 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 Poker Face Di Marco Pelinelli Ok Ah ecco perché Perché seguo tanto Anche il basket Oltre al karate Esatto Benissimo Io prima di te Io prima di te Ultimo film Ultimo film visto Ultimo film visto Ultimo film visto Ma come ne ricordo Al cinema Sì Ah uguale Forza al cinema Ho visto Ah abbiamo visto quel film Molto bello Ecco adesso mi viene il titolo Guarda Perfetti sconosciuti Bravo Perfetti sconosciuti Bellissimo Molte hanno risposto così Praticamente si sono andate quasi tutte Infatti tutte Molto bello Quel film Carino Molto carino Noi invece la settimana scorsa Abbiamo visto Un bacio Un bacio Ah come esce Voglio andare a vedere Carino Sì Sì fate comodo Facciamo anche le recensione Del film Dopo nel corso Del nostro appuntamento Attenzione Ultima domanda Facilissima Cane o gatto Passo Sì Ho usato il pass Io ho avuto sia il cane Che il gatto Quindi non mi fa scegliere Tra tutti e due No ne devi scegliere uno Dai Non può Non può Non può Non può Forse il cane Perché ti dà di più Cioè è più affettuoso Però anche il gatto Diciamo Il cane Però anche il gatto Accettiamo questa risposta Va bene così Ragazzi abbiamo terminato Avete visto Tutto Tutto non è difficilissimo Per cui siamo Arrivati al termine Tutte le domande A questo punto Facciamo un attimo Una pausa musicale Che a questo punto Ci devi annunciare Tu Cara Sara Che cosa mettiamo adesso Mettiamo jeans a DJ Balvin Benissimo Rimanete lì Poi rimaniamo con i saluti Con le nostre amiche Di questa sera Qui su Radio Incontro Pesaro Grazie a tutti